Il manifesto più bello che è stato fatto in queste feste di Santa Rosa, le tre minimacchine insieme. Io vorrei adesso dare un grande saluto a coloro che hanno la responsabilità delle altre minimacchine di Viterbo e passo adesso la parola per un saluto ad Alfredo Fazio per il Centro Storico. Facciamo un applauso. Grazie, buonasera. Noi quest'anno ci festeggiamo 50 trasporti. Ci possiamo considerare i fratelli maggiori? Quindi come fratelli maggiori vi abbraccio tutti i mini facchini. Ricordatevi che siete la forza di Viterbo questa sera. Il primo saranno i nostri ragazzi che saranno la forza di Viterbo, il tre i grandi facchini. Tutti insieme adoriamo e rispettiamo la nostra Santa Rosa che porteremo sempre in spalla sulle nostre in giro per Viterbo. In bocca al lupo, buon trasporto a tutti.